L'articolo 18 è una fondamentale norma di civiltà, oltre che una fondamentale norma deterrente, come tale è evidente che non si può cancellare e peraltro nessuna teoria economica riuscirà a convincerci che licenziare di più favorisca la crescita. Segretario, l'articolo 18 si tocca o no? Questa storia non la capisco, non è passato 12 ore da una manovra che già si aizza su un'altra vicenda che si sa, ha procurato sempre divisioni, difficoltà, su un assunto che il mal comune è mezzo gaudio, che se i giovani vedono quelli più anziani perdere più facilmente del lavoro, loro si sentono meglio ed è un'impostura vera e propria. L'articolo 18 è un vero e proprio simulacro, siccome non si riesce a fare nulla di serio per quanto attiene all'occupazione, allora di volta in volta si scopre un colpevole. Prima erano le pensioni, che i padri avevano troppo rispetto ai figli, adesso è l'articolo 18 per cui sarebbero coloro che hanno un posto di lavoro che impediscono ai giovani di averne un altro, ovviamente sfuggendo al vero problema che è quello invece di fare una politica economica intesa da fare gli investimenti, liberalizzare, scontrarsi con le corporazioni, distribuire un po' di ricchezza e quindi ci si infende l'articolo 18. Adesso si tocca anche l'articolo 18, che ne pensate? Quella è la cosa più grave di tutte, tutte le conquiste sindacali che sono state fatte fino adesso vengono cancellate con tratto di gomma, è una cosa pazzesca.